Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola. Sulla Fipili a causa di un incidente un chilometro di coda in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna. Sulla corda autostradale Siena a Firenze. Per lavori ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Badesse e Siena Nord. Restringimento di carreggiata in corrispondenza dei riadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonsi e Tavarnelle. Sulla regionale due cassi a senso unico alternato all'altezza del chilometro 291 nei comuni di Impruneta e Firenze fino al 31 maggio. La viabilità cittadina a Firenze e via Piercapponi chiusa per anomalia stradale con blocco della circolazione. Puoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.